Numerosi controlli sia via terra sia via mare sull'attività di pesca, tracciabilità ed etichettatura dei prodotti in pescheria, ristoranti, venditori ambulanti, supermercati e mercati ittici. Ha ottenuto significativi risultati l'operazione Dirty Market, condotta durante le appena trascorse festività natalizie dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Portempedocle e dagli uffici circondariali marittimi dipendenti di Lampedusa, Sciacca e Licata, coordinati a livello regionale dalla Direzione Marittima di Palermo. In diverse attività di controllo della filiera del pescato, personale del compartimento marittimo di Portempedocle ha accertato la presenza in mare di diversi attrezzi da pesca non consentiti e pertanto li ha sequestrati. Nel totale sono stati sequestrati 850 kg circa di prodotti ittici privi di tracciabilità, nonché contestate violazioni amministrative per un importo totale delle relative pene pecuniarie pari a 45.004 euro. Con tale operazione si intende reprimere le eventuali attività illecite nel settore pesca che possano verificarsi sia all'interno delle aree portuali sia lungo tutto il litorale a tutela della salute dei consumatori finali.